Buongiorno a tutti, allora in questo video farò una cosa un po' particolare, un po' strana perché personalmente finora in questo canale più che altro ho parlato di mindset, invece in questo video sarà un po' più tecnico perché voglio condividere con voi un trade che ho fatto su DAX e che poi in realtà poi ho già condiviso anche con i ragazzi del Platinum è un trade che è durato più di un mese e ho fatto una gestione abbastanza dinamica e secondo me potrebbe essere interessante anche per voi quindi condivido lo schermo così vi spiego quello che ho fatto chiaramente questa condivisione non è per farvi vedere anche perché vi faccio vedere tutto anche a livello numerico gli importi però non è tanto quello importante, il messaggio che vi voglio dare è un tipo di gestione che si può fare sempre in estrema tranquillità, in estremo controllo contenendo e gestendo il rischio e vedremo insomma tutto quello che ho fatto allora condivido il monitor, vediamo come mi metto, così, forse così anche meglio, sì, va bene così chiaramente il trade è nato da un'analisi settimanale quindi un DAX che diciamo facciamo fin da torniamo un po' indietro a quando è nato il trade però diciamo che c'era stata fine luglio questa l'arrivo su questi massimi ha fatto un doppio massimo lower proprio qui nella settimana che è iniziata il 31 luglio quindi in realtà è la prima settimana di agosto in cui si era un po' capito che evidentemente il DAX quando è arrivato su questi livelli dei massimi precedenti che erano i 16.000, 16.200 quest'area qua aveva un po' iniziato a fare una dinamica di spingimento diciamo del prezzo sui massimi stessi e qui praticamente ha fatto una falsa rottura e questa settimana in realtà questa è proprio addirittura una dinamica che noi è anche un nostro trigger che è quella proprio del... ora non mi viene il termine... della trappola, ecco, bar trap perché è una trappola? perché praticamente ha chiuso sopra i livelli ha rotto un livello e la settimana o nelle settimane successive viene rimangiato il movimento in realtà questa addirittura l'ha fatto in una settimana sola chiudendo addirittura verso la base che aveva creato quindi è stato un segnale molto molto importante e noi in realtà in Airforex quindi avevamo già iniziato a guardare a una possibile dinamica short nelle settimane successive su questo mercato quindi da quello... una volta chiusa questa settimana ovviamente ci siamo messi non alla ricerca di un segnale d'ingresso ma eventualmente una dinamica di conferma o qualcosa che ci potesse far pensare l'ulteriore, diciamo, movimento short ovviamente quello lo abbiamo guardato più sul daily e in realtà proprio sul daily qualche settimana dopo guardate, quindi questo movimento 0-100 non è altro che il trigger e quello settimanale quel doppio massimo lower di cui vi parlavo non sono chiaramente entrato subito ma ho aspettato una dinamica di conferma e la dinamica di conferma in realtà sul daily ce l'ha fatta proprio la giornata che è giovedì 24 agosto creando una FTV doppio massimo lower questa è una FTV combo che è una... sia una power che una classic quindi combo ed è anche un doppio massimo lower anche qui con tentativo di andare su, rompere, tornare verso su e poi fallito e ha creato questa barra che tra l'altro è anche abbastanza volatile era stiamo parlando di una barra comunque di 350 punti che però andava in linea con il, diciamo, l'indicazione che ci aveva dato il grafico settimanale quindi mi è piaciuta questa però dato che era abbastanza ampia in realtà non sono entrato la mattina dopo anche perché per, diciamo, tecnicamente sarei dovuto entrare sotto i minimi sotto i minimi di questa... di questo doppio massimo lower lì si sarebbe convalidato il... il... il trigger, diciamo, no? quindi la rottura, il breakout dei minimi però... diciamo che però mi aveva dato... mi aveva creato un... un... diciamo un segnale di attenzione a questo mercato e il giorno dopo, in realtà, era il venerdì pomeriggio tra l'altro avevamo fatto anche... in mattinata avevamo fatto una trading room in cui abbiamo parlato, ovviamente, di questo in realtà, il venerdì pomeriggio se... se ora scendiamo vi faccio vedere su quattro ore su quattro ore questo era il... questo movimento era quel trigger che abbiamo visto sul daily su quattro ore mi aveva fatto una dinamica anche qui di conferma quindi senza violare i minimi però con un ritracciamento era tornato verso il 50% e anche qui aveva creato una barra ribassista che confermava quindi la tendenza sia settimanale e anche daily a quel punto e quindi mi ha fatto pensare di entrare e io sono entrato in... in realtà vi dico pure anzi, vi faccio vedere questo file che poi vi condividerò nel video quindi in descrizione nel video lo potete trovare dove c'è il riepio così tutta l'operazione così magari qualcuno che vuole dare mentre si guarda il video vuole dare anche un'occhiata al file stesso dove ci sono tutti i dati e così anche faccio meno errori né spiegarvelo tornando a noi sono entrato praticamente a livello di 15.616 quindi proprio diciamo un po' un po' dopo che era stato rotto e convalidato anche il 4 ore 15.616,2 chiaramente essendo un'operazione un po' come posso dire un po' aggressiva perché poi l'ho fatta così e sono entrato direttamente perché questo stiamo parlando di un indice rispetto alle valute gli indici hanno dei movimenti non so se ve ne siete accorti un po' più direzionali e spesso anche più fulminanti chiamiamoli così cioè più veloci e siccome stavamo su una base e tutto stava dando l'idea che potesse rompere questa base stessa ritorniamo su daily così vi faccio vedere e chiaramente dobbiamo vederla così guardate senza guardare quello che poi è successo quindi lui era venuto su aveva fatto questo falso massimo era tornato sulla base e qui aveva creato questa dinamica alla rottura di queste in effetti il prezzo poteva scivolare giù e quindi dato che io ho fatto un'entrata su una conferma quattro ore su un trigger daily però non convalidato a quel punto ho pensato di entrare però non posizionare ovviamente né uno stop loss classico sopra i 15,9 né uno stop loss un po' più ampio proprio perché ci trovavamo sulla base ma ho pensato come faccio spesso negli ultimi tempi e soprattutto diciamo più che altro negli ultimi anni di mettere addirittura uno stop loss molto 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 ampio in realtà più che stop loss noi lo chiamiamo paracadute e l'ho messo su grosso modo vi dico il livello preciso 16 777,5 quindi grosso modo su questo livello qua quindi molto molto ampio considerate io sono entrato qui a 15 faccio qua il tratteggio anzi questo lo faccio diventare rosso ovviamente non guardate vabbè lo faccio preciso a questo punto facciamo la cosa fatta per bene 7,7,5 e questo lo disegniamo rosso così ci ricordiamo dove abbiamo messo il paracadute ok e questo sta sul settimanale vado sul daily guardate dove dove si trova il paracadute io ripeto sono entrato e qui facciamo un altro segmento opla configura segmento orizzontale lo facciamo blu ovviamente 15 616,2 sono entrato a questo livello 616,2 ok e lo lasciamo in azzurro questo chiudi ok allora guardate qui io quindi sono entrato ora scendiamo sul 4 ore andiamo sul 4 ore sono entrato cancello un po' di livelli altrimenti vi faccio impazzire sono entrato per farvi capire esattamente qua in questa posizione sono entrato praticamente qui il 25 di agosto ho mandato considerate che ho mandato il messaggio guardate guardate ve lo faccio vedere così poi potete vedere ho mandato il messaggio ai ragazzi nel canale telegram del platinum dove noi sia io che Ardu condividiamo le operazioni che facciamo l'ho mandato alle 17.55 io scrivendo così personalmente ho venduto il DAX qualche minuto fa a livello 15 616.2 con 3 mini però non ho messo un paracadute molto ampio mentre non ho impostato in quel momento non ho ancora impostato nessun target va bene quindi questo è il trade che io ho impostato quel giorno là che parliamo del 25 di agosto a quel punto dopo che mi è entrato il trade in realtà il mercato ha iniziato a risalire guardate questa era la giornata in cui sono entrato anzi facciamo così così ce la ricordiamo questa è la giornata in cui io praticamente sono entrato il mercato ha iniziato a risalire ed è tornato verso la zona dei 16.000 io in questo momento avendo il paracadute così ampio non ho fatto nulla ovvio che se questo mercato avesse iniziato a costruire dei massimi avesse fatto un trend o comunque si riportava verso la zona dei 16.3 molto probabilmente io avrei trovato un modo per uscire quindi il paracadute ce l'avevo qua però in realtà il mio stop diciamo diciamo la mia area limite erano proprio queste dei 16.2 16.3 come zona e quindi quella sarebbe stato in effetti la zona dove io probabilmente avrei chiuso prima l'operazione prima il trade comunque è tornato lì vi dico pure che io a livello di rischio monetario e di rischio percentuale rimetto il file così mi aiuto avevo circa il 2.5 che era il mio rischio diciamo classico del mio conto con un rischio monetario di 3.483 ok quindi questo era il mio rischio massimo dell'operazione sto parlando se l'operazione andava a paracadute a 16.777 io avrei chiuso avrei chiuso la mia operazione con questo costo ovviamente era molto cautelativo non è successo questo nel senso che il prezzo è arrivato a 16.000 e qualche giorno dopo arrivando a 16.000 in realtà ha fatto un'altra dinamica con una mini pin qua sui massimi dei 16.000 a livello tondo anche e anche livello di prezzo tra l'altro e il prezzo è tornato giù tornato giù è tornato praticamente qualche giorno dopo stiamo parlando del venerdì 8 settembre era tornato addirittura a toccare e a riportarmi in BA la mia prima operazione a quel punto però ha creato questa mini pin non tanto mini in realtà però una pin comunque all'interno quindi non era una pin che io sinceramente long non avrei mai tradato e onestamente quindi questa non solo non l'avrei tradato ma non ho fatto nulla perché tanto non mi spaventava e anche se avesse riportato il prezzo non l'avrebbe riportato secondo me vedendo la dinamica oltre questo livello non mi sono spaventato proprio anzi in training room con i ragazzi alla giovedì il giovedì 12 settembre chiedo scusa il giovedì questo era martedì 12 settembre che ha chiuso così in realtà i ragazzi in training room quando abbiamo fatto la solita training room dei mercoledì 13 settembre ho detto questo prezzo se dovesse rompere i minimi di ieri a mio avviso questo minimo della pin potrebbe essere invalidato e quindi probabilmente io incrementerò l'operazione in realtà sul 4 ore il mercato ha fatto un po' più o meno quello che io mi aspettavo e addirittura ha creato questa dinamica con una candela il 13 di settembre sempre su 4 ore quindi all'una alle ore 13 del 13 di settembre che era un mercoledì lui ha creato una dinamica dove ha provato ad andare ancora su e poi in realtà ha rotto proprio il minimo questo era il minimo di quella pin che abbiamo visto su TV facendo così sinceramente ho detto vabbè questo ormai il prezzo anzi non ho manco aspettato che rompesse questo minimo non ho manco aspettato la chiusura del luna forse è stato un po' prima del luna infatti ho mandato il messaggio ai ragazzi ho incrementato l'operazione guardate infatti il messaggio l'ho mandato alle 12.07 l'avevo un po' preannunciato in trading room tanto questo poi lo vedrete con calma però io non volevo incrementare l'operazione aumentando il rischio allora vedendo la dinamica e tornando sempre perché la nostra operazione si guarda settimanale daily 4 ore non si guarda solo sul brevissimo ho deciso di incrementare quindi volevo rientrare spostando il mio stop e riducendo il mio stop massimo a livello monetario portandolo verso la zona dei 16.3 e così ho fatto e incrementando l'operazione quindi io ho fatto esattamente così guardate ho fatto una nuova entry guardate spostando primo trade l'ho spostato a paragadute a 16 il paragadute l'ho spostato a 16.307 riducendo il rischio monetario da 3.400 a 2.070 la seconda entry l'ho fatta a livello di 15.6 e 27 rischiando praticamente la differenza a livello monetario e l'1% quindi alla fine io mi trovavo con due posizioni dove il totale del rischio era grosso modo come quello precedente intorno a 2.50 e anche il rischio monetario uguale però avendo praticamente una posizione quasi raddoppiata da 3 mini a 5 mini in quel momento quindi io avevo 5 euro per ogni punto anche in questo caso però torniamo sul daily anche in questo caso però il giorno dopo guardate dopo che la posizione era andata e stava anche andando arrivato sulla base ancora una volta ha fatto un ulteriore rimbalzo il prezzo anzi l'ha fatto anche abbastanza in volatilità il giorno dopo ha creato questa dinamica il giovedì molto volatile ha cercato di recuperare i massimi sinceramente non mi ha fatto più di tanto paura questa giornata perché aspettavo l'area dei 16.000 e ancora il giorno dopo successivo il venerdì ha creato questa mini pin che tanto mini non è però è mini rispetto al movimento che ha fatto sempre sulla zona dei 16.000 però non ha falsato i massimi quindi io non ho fatto nulla però insomma questa effettivamente poteva riportare giù e in effetti così è successo perché poi qualche giorno dopo il prezzo è ritornato guardate ancora una volta giù addirittura mercoledì 20 ma di settembre ha creato dopo questo movimento di ritorno verso i mini ha creato l'ennesima pin sempre inside sempre tutto diciamo non tecnicamente tradabile però ancora un ulteriore movimento di ritorno verso i massimi ma non non c'è riuscito perché è arrivato al 15.8 e io in questo caso anche in questo caso ho deciso il giorno dopo quindi quando stavamo a a quel punto era giovedì 21 di settembre ritorno sul 4 ore per farvi vedere la dinamica siamo qui guardate mercoledì il giorno dopo quando ha chiuso il giovedì all'ora di pranzo ha chiuso ancora con una candela che andava a confermare quella pin sul daily del giorno precedente e ancora un ulteriore ritorno sui minimi ho deciso addirittura di ancora ulteriormente incrementare il trade guardate terza posizione 21 guardate ore 13 e 13 quindi però sempre riducendo il rischio delle prime due quindi a quel punto io mi sono portato dopo il primo aumento incremento avevo portato poi ripeto vedrete i dati perché altrimenti viene un video troppo lungo già è abbastanza lunghetto la prima volta ho spostato in aria 16.300 il mio stop il mio paracadute con questo secondo incremento l'ho portato in aria a grosso modo 16.100 quindi mettendomi leggermente più alto di questi massimi qua guardate su daily ok però ho incrementato ulteriormente grosso modo sempre intorno ai 15.6 ripeto i dettagli poi vi vedrete sul file fatto questo avevo lo stop qui anche a livello monetario mi sono conservato sempre più o meno con lo stesso rischio guardate sempre intorno ai 3.500 euro sempre intorno a 2.50 2.55 di rischio totale ho fatto una nuova entry ancora con 2 mini quindi prima posizione con 3 mini seconda posizione con 2 mini e terza posizione con 2 mini totale 7 mini praticamente rispetto alla prima posizione ho quasi raddoppiato senza raddoppiare il rischio monetario ma ho raddoppiato la mia size e a quel punto tutto doveva venire in un certo senso doveva venire giù perché ormai sembrava che questo pavimento fosse abbastanza tra virgolette stressato per poter essere rotto cosa che in effetti poi è successa perché poi guardate vediamo un po' una dinamica un po' più di breve guardate dopo la diciamo il mio trade che ho messo il terzo incremento in realtà non è mai andato mai in zona di rischio è venuto giù e basta il prezzo ho iniziato a fare tutta una serie di minimi dopodiché quando ha rotto il pavimento guardate poi le dinamiche che ha fatto è venuto giù anche in maniera abbastanza volatile quindi il 21 il giorno 21 marzo io ho fatto il terzo incremento se torniamo sul daily guardate vi faccio vedere ancora perché poi ovviamente l'operazione non è finita il 22 il venerdì ha fatto un ulteriore tentativo ha cercato di riprendere però non ce l'ha fatta e ha chiuso giù e lo vi dico pure perché in trading room in realtà dopo questa settimana dopo che aveva fatto questa pin io ho detto ai ragazzi in trading room che se il prezzo non avesse chiuso sotto i 15 e 5 o in area 15 e 5 molto probabilmente fosse tornata ancora una volta su molto probabilmente io avrei chiuso tutta l'operazione con magari con un mini costo un piccolo costo perché a quel punto non mi piaceva più perché stava troppo mettendoci troppo tempo ricordiamoci che io ero entrato il 25 di agosto e qui stavamo al 21 di settembre era un mese che questo mercato cercava di andare giù è vero che non andava su qua ma non andava nemmeno giù quindi a quel punto una volta e ci ritorna la terza volta deve rompere e basta alla fine è andata come appunto era il mio progetto e a quel punto il giorno ancora dopo il 21 di settembre il giorno 26 di settembre all'indomani di questa giornata in cui lui praticamente aveva rotto il livello ed era aveva fatto una bella giornata di volatilità anche abbastanza pesante in realtà io ho fatto un ulteriore incremento perché l'ho fatto guardate qua 4 ore dinamica 4 ore questa era la giornata precedente che lui aveva chiuso aveva fatto questo movimento poi durante il giorno ha fatto questo quando c'è stato questa sorta di box di lateralità fatto e quindi quando stava ritornando io qui al livello ve lo dico tanto poi lo leggerete al livello di 15.322 in questo modo su questo livello io ho messo un ulteriore incremento addirittura con 4 perché l'ho fatto con 4 mini quindi ne avevo 7 ne ho messo altre 4 però ovviamente spostando spostando in profit le operazioni precedenti a livello di grossomodo 15.450 questa zona qua quindi ho spostato i miei primi 3 trade in questa zona e in quel momento avevo guardate con i primi 3 trade spostando mi ero spostato a BA chiedo scusa a BA non in guadagno ma mi sono spostato a BA a 15.006 quindi in questo momento i primi 3 trade io non rischiavo più nulla ero grossomodo a break even con la quarta operazione avevo incrementato però ok 4 mini ma sempre riducendo il rischio quindi io ero passato da un rischio di 3.500 rischio totale monetario che avevo prima a quel punto una posizione che era in guadagno non mi sentivo più di rischiare troppo volevo incrementare perché a mio avviso c'erano le caratteristiche per poterlo fare però il mio rischio monetario qui scritto guadagno ma è sbagliato rischio monetario era 954 euro in questo momento perché tra il rischio dell'operazione dell'ulteriore incremento e le prime 3 che erano in leggerissimo gain io avevo grossomodo un rischio monetario di 954 euro quindi considerate all'incirca meno di un terzo perché dal 2.50 iniziale era 0.70 però avevo una posizione rispetto alla prima posizione addirittura in questo momento avevo 11 mini quindi quasi tre volte la size iniziale quindi un trade molto costruito da questo punto di vista che è successo il giorno dopo lui dopo che ho fatto incremento è venuto a quelle di provato prima ad andare giù ma ha chiuso con un indecision sui minimi quindi un indecision sui minimi che non mi era molto piaciuta cioè nel senso non mi piaceva molto perché questa poteva far tornare sui prezzi ok allora che è successo io in realtà avevo ancora incrementato l'operazione perché il 27 prima che facesse quell'indecision avevo fatto un ulteriore incremento che qui è tutto spiegato e poi magari ve lo leggete con calma guardate questi sono i post che io poi man mano ho mandato ai ragazzi sul platinum e quindi dove ci sono anche i dettagli a livello tecnico io in realtà qui ho creato e ho fatto un ulteriore incremento se andiamo a vedere su quattro ore dopo che ha fatto questo movimento così guardate durante questo movimento quindi lui ha provato ad andare su ho visto che non ce l'ha fatta durante la giornata del 27 ho provato a fare un ulteriore incremento perché ho detto a questo punto questo è probabile che possa allungare ancora però dato che c'era stata parecchia volatilità sul daily che ho fatto siccome nel frattempo all'inizio delle operazioni io ho messo il target a 14.500 grossi modo sul T5 del trigger settimanale in realtà ho detto se questo visto già tutto il movimento che ha fatto probabilmente dato che aveva condensato e aveva fatto la base sul T2 che è questo livello qua in azzurro di solito quando rompe il T2 il movimento lo fa fino al T4 quindi ho detto in volatilità potrebbe arrivare sul T4 e poi magari rimbalzare tra l'altro il T4 era in area 15.000 a livello anche tonto anche zona tra l'altro di prezzo ho detto se mi dà un'altra giornata o due ancora in volatilità ribassista verso i 15.000 mi porto a target quindi io con l'ulteriore incremento avevo praticamente fatto guardate quattro posizioni che stavano ovviamente ho ridotto il rischio anche sulla quarta avevo addirittura in guadagno tra le prime tre e la quarta comunque stavo con un piccolissimo guadagno e ho messo un ordine pendente se nel caso avesse rotto quella base che vi facevo vedere prima ve la faccio rivedere perché è un po' complicata questo trade ragazzi è stato abbastanza complesso quindi magari vi invito a vedervelo più volte se l'ho spiegato un po' male mi dovete scusare tra l'altro non sono abituato come Ardu a spiegare tutte queste cose tecniche tutte insieme tra l'altro comunque ho detto se questo vola giù mi prendo e chiudo magari in area 15.000 mi prendo un bel gain veramente pesante altrimenti gestiamo in realtà la mattina dopo cioè lui dopo che ha rotto ha chiuso male la giornata perché ha rotto i minimi guardate ha fatto su 4 ore ha rotto i minimi questa era la candela delle ore 17 che ha chiuso alle 21 tra l'altro ha rotto i minimi e ha recuperato in volatilità creando su daily quell'indecision che vi facevo vedere prima allora quando ha fatto questo sinceramente non mi piaceva tanto più anche perché io lo stop sull'ultimo incremento l'ho messo abbastanza stretto e non mi dava tranquillità allora che ho fatto io la mattina del 28 giovedì 28 guardate vi faccio vedere mattina del giovedì 28 qua ripeto c'è tutta la descrizione io ho chiuso entrambi i trade la mattina presto guardate ho mandato un messaggio alle 7 e mezza entrambi i trade in aumento in incremento che ho fatto gli ultimi due con una piccola perdita portandomi a casa una piccola perdita perché ho provato qui considerate ragazzi 3 più 2 più 2 erano 7 in questi due incrementi io ho fatto altre 8 mini quindi avevo fatto rispetto alla posizione iniziale 5 volte la size della posizione iniziale quindi ero molto aggressivo ero stato allora ho detto mi tengo sempre queste posizioni con un guadagno bloccato a 1100 euro tra virgolette perdo 118 ma avendone bloccati 1100 praticamente è come se avessi un guadagno netto di 1000 e provo a vedere se questo ha la forza di fare magari uno spike questo è stato il mio ragionamento magari fa uno spike su e poi torna giù e questa era la mia gestione in realtà non ho fatto così perché sul sulla dinamica 4 6 ore ho notato questa cosa dopo che io mi sono ho chiuso quelle due operazioni avevo lo stop in profit a questo livello a 4 e 50 15.000 ok avevo lo stop qui a quel punto quando ho visto questa candela delle ore 13 che ha chiuso alle ore 13 con un respingimento facendo praticamente un doppio minimo tecnico e io avevo lo stop qui ho detto questo è facile che mi può andare a prendere l'operazione lo stop a quel punto non ho aspettato più nulla e sempre alle 13 ho deciso di chiudere tutte le operazioni guardate circa le 13 12 e 55 ho mandato un messaggio ai ragazzi che ho chiuso tutta l'operazione tutta portando questo guardate poi ho allegato anche lo scontrino con tutte le operazioni chiuse e portando un'operazione un guadagno monetario di 2673 e 65 pari al 2% del mio conto tra l'altro vi voglio dire che il mio rischio massimo dell'operazione sostenuta che significa il rischio massimo significa che io quando il mio trade avendo fatto un primo incremento guardate qui sono entrato la prima volta qui sono entrato la seconda quando questo è tornato su io qui avevo 5 mini che erano andati su e mi aveva in quel momento il rischio massimo mio è stato di 1800 euro 1859 pari all'1,38 quindi il mio rischio effettivo in macchia che i soldi tra virgolette che se si fosse chiusa l'operazione stavo rischiando era l'1,38 mentre il mio guadagno totale compreso gli overnight positivi che ho preso in oltre un mese di operazione perché vi ricordo sono entrato il 25 di agosto ho chiuso tutto il 28 di settembre quindi più di un mese di operazioni ho avuto un overnight positivo perché il DAX il CFD di DAX il mio broker paga l'overnight positivo sulle posizioni short paga pochissimo però sono comunque 54 euro considerando che anche gli eventuali dividenti negativi il DAX non li paga né positivi né negativi quindi stavo molto molto tranquillo e ho diciamo guadagnato altre 54 euro anche di overnight quindi ho chiuso il mio trade a livello di 15.224 lo vedete anche qua guardate 15.224 e 1 ho chiuso la mia tutte le mie operazioni e chiudendo così ora vi dico sinceramente per come si è fatta la dinamica guardate ha creato e come ha chiuso il settimanale e oggi guardate già sta venendo giù io sto registrando oggi che è lunedì in realtà per la dinamica che sta facendo a mio avviso è molto anche riguardando come ha chiuso il settimanale perché ha chiuso ancora in debolezza e guardate oggi già è andato a provare a tornare sui minimi questo famoso livello dei 15.000 a mio avviso è un livello molto facile che possa essere preso nei prossimi giorni e soprattutto dopo questa giornata io oggi non ho fatto nulla perché voglio ora aspettare questo mi piace molto io vi dico già che nei prossimi giorni probabilmente sulla dinamica è 4-6 ore potrei rientrare short su questo mercato poi ovviamente vedrò come fare però insomma ci sono le condizioni a mio avviso per poterlo fare magari si può vedere su 4-6 ore come vi dicevo ultima cosa vi voglio far notare due cose che ho visto ieri facendo la mia analisi settimanale praticamente su questa pin guardate che confluenza che abbiamo su questo livello che è il T4 del settimanale c'è il T5 di questa pin è incredibile e poi il T7 guardate questi due livelli magici il T5 della pin che ha fatto venerdì combacia perfettamente con il T4 del settimanale e il T7 sempre della pin combacia con il T5 del trigger settimanale queste sono le mie due zone a mio avviso dove questo mercato potrebbe in un certo senso arrivare e poi magari perché nel medio lungo il DAX come tutti gli indici sono sono chiaramente sono dei mercati long insomma va bene quindi adesso lui sta ritornando quindi in base a queste informazioni che vi sto dando probabilmente io potrei riprendere posizione poi vedere dove mettere lo stop e tutto questo però ora io non vi voglio ulteriormente tediare perché stiamo parlando di mezz'ora di video penso che Arduino non mi caccerà da IR Forex dopo questa però insomma io spero che questo video possa essere funzionale vostro percorso e vi volevo far vedere soprattutto una gestione dinamica perché poi il file in allegato andatevelo a rileggere proprio per vedere tutti i ragionamenti perché lì è tutto spiegato tutti i ragionamenti che io ho fatto anche nel breve ovviamente i ragazzi che stanno in trading room tutta sta faccenda l'hanno seguita in diretta però anche seguirlo dopo non è male per vedere come si può fare una gestione attiva controllando e gestendo il rischio controllando la parte emotiva nei momenti in cui il trade stava andando diciamo contro mantenendo fede al piano perché ovviamente il mio piano visto che il DAX non si è mai apprezzato rispetto agli altri indici che avevano mostrato dei rialzi un po' più forti il DAX più o meno rimaneva in quel box e quindi alla fine quello che vi voglio dire è proprio questo il messaggio che vi voglio dare è questo che se noi riusciamo a gestire bene il rischio se riusciamo a gestire bene noi stessi anche se non facciamo delle entrate come avete visto impeccabili no? perché io sono entrato su un supporto in realtà a livello tecnico non si è entrato alla grande però alla lunga gestendo il rischio perché ovviamente avevo messo proprio perché stavo sul supporto avevo messo questo paragadute molto molto ambio e quindi in realtà io ho rischiato sempre pochissimo appunto se noi riusciamo a gestire bene il rischio e bene noi stessi anche se non facciamo delle entrate perfette spesso poi riusciamo comunque a portare l'operazione dalla nostra parte ovviamente se c'era anche un costrutto tecnico va bene allora io penso di aver finito mi dispiace che è durato un po' troppo però insomma l'operazione era abbastanza complessa spero possa essere funzionale anche al vostro trading vi saluto e ci vediamo presto su questo canale magari in una live del mercoledì o in un altro in un'altra trading room quella del lunedì va bene? ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti